L'analisi logica 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 Ovviamente gli elementi sono questi, compra è una terza persona singolare, quindi avremo un soggetto che corrisponde a queste caratteristiche, sarà singolare e sarà una terza persona. Se per esempio avessimo avuto una frase come andiamo in centro a fare shopping, ovviamente andiamo è una prima persona plurale, il soggetto, ma lo vedremo tra poco, sarà noi. Ecco, mi collego appunto con l'esempio che ho fatto poc'anzi, noi andiamo a fare shopping, ma posso anche dire andiamo a fare shopping omettendo noi. Quando il soggetto nella frase è omesso, non c'è, non è espresso, materialmente non c'è scritto, per dire una cosa orribile, però di facilissima comprensione, quando il soggetto non c'è scritto e ovviamente il verbo non è impersonale, allora parliamo di soggetto sottointeso. Guardate degli esempi, ho mangiato troppo. Chi è che fa l'azione di mangiare? Ho mangiato in analisi grammaticale è una prima persona singolare, quindi a fare l'azione di mangiare sono io, ma io non è scritto materialmente nella frase, non c'è nella frase, viene lasciato sottointeso e ovviamente lo capiamo perché ho mangiato è prima persona. Ecco perché è importante nell'analisi partire dal predicato, perché il predicato ci aiuta anche a trovare il soggetto quando non è espresso. Hanno arrestato quel criminale, chi è che fa l'azione di arrestare? Essi, per esempio i poliziotti oppure le forze dell'ordine hanno arrestato quel criminale. Vedete però, essi non è espresso. Il verbo è una terza persona plurale, qui ovviamente siamo liberi di immaginare molti soggetti diversi, come ho detto, le forze dell'ordine, i carabinieri, i poliziotti, eccetera, eccetera. In generale, essi, un pronome di terza persona plurale, che però non è materialmente espresso. Attenzione, non è detto che se il soggetto non c'è, che il verbo abbia il soggetto sottinteso. Che cosa intendo? Vedete, qui trovate un link di approfondimento per quelli che sono i verbi impersonali. Esistono dei verbi in lingua italiana che sono costruiti senza il soggetto. Un esempio, tutti i verbi che indicano la condizione climatica, piove, nevica, tuona, oppure la condizione appunto di temperatura, fa caldo, fa freddo. Sono tutti i verbi che sono costruiti senza soggetto e per l'approfondimento vi rimando al link che trovate qui, sui verbi impersonali. Un'altra caratteristica del soggetto, e qui vedete che ho utilizzato questa immagine con le operazioni matematiche, adesso capirete perché, è il soggetto partitivo. Già la parola stessa vi aiuta, parte, partitivo, parte. Il soggetto partitivo è una particolare costruzione, no? Il soggetto non è introdotto, come ci immaginiamo, dagli articoli determinativi o indeterminativi, ma da una preposizione spesso articolata. Del, della, dei. Quando è che parliamo di soggetto partitivo? Quando il soggetto è una parte di un intero, ecco perché ho utilizzato l'immagine della matematica, una parte di un gruppo. E facciamo degli esempi. In forno c'è della pizza. Come vedete, l'espressione evidenziata, della pizza, equivale a dire un po' di pizza. Quindi non sappiamo quant'è la pizza che è nel forno. C'è una parte dell'intero pizza. E tra l'altro, perché è soggetto? Chi è che fa l'azione di esserci? La pizza. Tra l'altro, notate, questo c'è, secondo voi, è predicato verbale o è predicato nominale? Non è difficile da capire. Dei gatti hanno miagolato sempre. In questo caso, vedete, dei gatti hanno miagolato, ma non sono tutti i gatti del mondo oppure il gatto dei vicini o il gatto di casa. Sono dei gatti indeterminati. Una parte del gruppo dei gatti. Alcuni gatti. Dei gatti hanno miagolato sempre. Ora, dopo aver fatto questa piccola carrellata, per quanto riguarda il soggetto partitivo, che, vi ripeto, ha bisogno di un pochino d'occhio, ma è una cosa abbastanza poi fattibile, qui entriamo, magari, invece, in un argomento che è un pelo più ostico, quello dei verbi copulativi. I verbi copulativi hanno una funzione simile a quella del verbo essere, che anche qui è una cosa molto brutta da dire, ma aiuta a farvi capire. Che significa che hanno una funzione simile al verbo essere? Il verbo essere, ovviamente, utilizzato come predicato nominale, di questo stiamo parlando, esprime una caratteristica di un soggetto. Se io dico Lucia è alta, Lucia ha la caratteristica di essere alta. I verbi copulativi fanno una cosa simile, nel senso che collegano il soggetto, o vedremo, il complemento oggetto, a alcuni nomi o aggettivi, per dare un significato particolare alla nostra frase. Io qui, ovviamente, scrivo che servono a collegare il soggetto, un sostantivo, un aggettivo, ma vedremo anche che i verbi copulativi hanno la stessa funzione anche con il complemento oggetto. Qui, in questa slide, avete un piccolo ripasso di quali sono le categorie dei verbi copulativi e alcuni esempi. Ovviamente non sono tutti, perché i verbi copulativi sono numerosissimi. Che cosa intendiamo con, appunto, verbi copulativi? Verbi di stato, come restare, rimanere, stare, trovarsi. Vedi, il resto solo in casa. In questa frase c'è un soggetto sottinteso, io, e il verbo restare collega io con solo. Ok? Poi vedremo che cosa significa in particolare questa accezione. Un'altra categoria sono i verbi di trasformazione, di venire, diventare, ma anche nascere, crescere o morire. Per esempio, il poeta foscolo morì esule. Vedete che il verbo morire, in questo caso, collega, a livello di significato, il poeta foscolo con la parola esule. Ancora, i verbi di apparenza, apparire, parere, sembrare. Tu, soggetto sottinteso, mi sembri triste. Il verbo sembrare collega tu con l'aggettivo triste. Oppure, quell'attore mi pare intelligente. Pare collega l'attore con intelligente. Poi qui abbiamo alcune categorie particolari. Verbi appellativi. Appellativi, appello, in latino significa chiamare. E infatti abbiamo chiamare, nominare, soprannominare, definire. No? Mi hai definito maleducato? Ok, tu, soggetto sottinteso, hai definito me maleducato? Vedete, in questo caso ho utilizzato un esempio che collega mi, che vedremo sarà il complemento oggetto, con maleducato. E definire è il verbo che fa questo collegamento. Verbi elettivi. Eleggere, nominare, creare. Michele è stato nominato amministratore. Vedi? È stato nominato, collega il soggetto, in questo caso Michele, con la parola amministratore. Oppure, Cicerone fu eletto console. Stessa identica storia. Cicerone subisce l'azione di essere eletto e console è il collegamento con Cicerone. E infine, un'altra categoria, ovviamente io qui non le ho inserite tutte, ma ho utilizzato quelle che abbiamo visto insieme in classe e che sono anche un pochino le più frequenti, i verbi cosiddetti estimativi. Cioè tutti i verbi che servono per esprimere un giudizio. Credere, considerare, ritenere, reputare, stimare. Sei considerato, tu, soggetto sottointeso, intelligente da tutti. Vedete? Il verbo considerare collega il soggetto tu con l'aggettivo intelligente. Ora, perché abbiamo fatto questa panoramica? Perché appunto, e ovviamente qui avete sempre il link, adesso andremo a vedere un complemento che è molto difficile. Attenzione, perché dico che è difficile? Ve lo dico un pochino perché è un po' complicato da capire e ha bisogno di un pochino d'occhio per essere, tra virgolette, ben individuato. E anche in maniera veloce. Io vi posso confessare che ho bene o male capito il funzionamento del complemento predicativo del soggetto dopo vari anni che lo... che tentavo di individuarlo e di capirlo. Quindi, il consiglio che mi sento di darvi è, ok, la teoria, ok, l'esercizio, ma anche di darvi il tempo di cui avete bisogno per fare questo passaggio mentale. Il complemento predicativo del soggetto, se ripensate un pochino a tutti gli esempi che abbiamo visto proprio poc'anzi, è proprio esattamente il nome o l'aggettivo collegato al soggetto dal verbo cupolativo. Quindi, se vi ricordate, sei considerato da tutti intelligente. Tu, soggetto sottinteso, sei considerato da tutti intelligente. Tu e intelligente sono collegati dal verbo sei considerato. Intelligente è il nostro complemento predicativo del soggetto. Attenzione, inserisco questa piccola postilla. I verbi che abbiamo visto prima, quelli per esempio di stato o di apparenza, sono verbi intransitivi, quindi hanno sempre, se c'è, il complemento predicativo del soggetto. Per quanto invece riguarda i verbi appellativi, elettivi o estimativi, loro hanno una costruzione particolare. Perché? Al passivo avremo il predicativo del soggetto. Vedremo poi che invece, quando questi verbi sono attivi, il complemento predicativo non sarà del soggetto, ma sarà dell'oggetto. E qui vediamo degli esempi. Luca sta diventando grande. Vedete, qui utilizzo da una parte un verbo frasiologico. Questa è un'altra categoria di verbi frasiologici, ossia le azioni che sono in corso di svolgimento. Ma comunque fa parte dei verbi che significano diventare, quindi che indicano una condizione. Luca è il soggetto, sta diventando predicato verbale, grande è il nostro complemento predicativo del soggetto. Vedete, sta diventando collega Luca con grande. Un pochino potremmo quasi dire che risponde alla domanda Luca sta diventando come grande. Però, vedrete che questa domanda non è detto che sia sempre utile. Uno, perché non è possibile farla in tutti i contesti. Due, perché può portare confusione con quello che è il complemento di modo. Quindi il consiglio che mi sento di darvi è sempre andare a vedere, ma questo grande, in realtà, con chi è collegato? Con Luca. Ma Luca, nella frase, che cos'è? È il soggetto. Allora, questo potrebbe essere predicativo. Vedete quali sono gli elementi e vedete in attimo che cosa intendo quando parlavo dell'analisi dei problemi? Qui abbiamo questi elementi. Luca, soggetto, sta diventando predicato verbale e grande, che è quella cosa che noi dobbiamo analizzare. Grande, che cos'è? È un aggettivo. A chi è riferito? A Luca. Ma è una qualità di Luca? No, Luca non la possiede. Luca lo sta diventando. Quindi, grande è collegato con Luca. Luca è il soggetto. Questo diventare è un verbo copulativo. Vedete, analizzando questi dati, arrivo alla conclusione che grande, ipotesi, potrebbe essere il predicativo del soggetto. Un esempio molto simile con un verbo che indica morire. Il poeta foscolo è morto esule. Vedete, esule, che significa appunto in esilio, cioè scacciato dalla patria, è collegato al poeta foscolo dal verbo è morto. Stessa cosa con il verbo sembrare. La trasmissione è sembrata a me sciocca. Sciocca a chi è riferito alla trasmissione, che è il soggetto della frase. E quindi, c'è un verbo copulativo, sciocca è il nostro predicativo del soggetto. Questi tre esempi, invece, che vedete con l'evidenziazione, è perché fanno parte di questo particolare appunto, ossia i verbi appellativi, elettivi ed estimativi al passivo. Vedete, è stato definito, è stato eletto ed è considerato, che hanno appunto il complemento predicativo. Il direttore è stato definito crudele. Direttore e crudele sono collegati dal verbo definire al passivo. Giovanni è stato eletto sindaco, quindi è stato eletto il verbo sindaco, il predicativo del soggetto. Quell'attore è considerato da tutti un fenomeno. Quindi, un fenomeno è il nostro predicativo perché è collegato con il soggetto, quell'attore, dal verbo copulativo considerare. Vedete, quindi, l'evidenziazione serve a farvi vedere come, se noi dovessimo fare l'analisi grammaticale di questi verbi, diremmo che sono verbi passivi. E appunto, al passivo, i verbi appellativi, elettivi e estimativi hanno il complemento predicativo del soggetto. Come vi ho anticipato, all'attivo invece, avranno il complemento predicativo dell'oggetto. Chiudiamo con questa slide. Potrebbero confondersi il complemento predicativo con l'attributo e l'apposizione? Ovviamente, no, se noi ci siamo attenti. Che cosa sono, intanto, attributi e apposizioni? Sono nomi o aggettivi che ci danno delle informazioni in più, ma su tutti gli elementi della frase nominali. Quindi, in realtà, l'attributo e l'apposizione possono essere inseriti su tutti i complementi. Anche il complemento predicativo può avere l'attributo e l'apposizione. E tra l'altro, attributi e apposizione sono anche diversi dalla parte nominale, perché la parte nominale, se vi ricordate, ha bisogno della caratteristica specifica che è la presenza del verbo essere, ovviamente in funzione di copula. Come facciamo quindi a distinguerli? Attributi e apposizione, quindi, sono collegati a qualunque cosa. Il complemento predicativo ha bisogno dei verbi copulativi, la parte nominale, invece, ha bisogno del verbo essere. Guardiamo questi esempi. Vedete, notate i collegamenti che ho inserito a livello di colore. Attributi e apposizione sono in rosa, i predicativi, invece, sono in questo marroncino, mentre la parte nominale in verde. La macchina rossa è stata donneggiata da quel signore che ora sta parlando con gli agenti con la divisa scura. Vedete, rossa è una caratteristica di macchina, però, come vedete, uno è costruita lì vicino, anche questa è una cosa fondamentale. Due, non c'è verbo essere, non c'è verbo predicativo, e quindi queste sono tutte informazioni in più che abbiamo sui vari complementi. Quel signore, oppure la divisa scura. Guardate, invece, la differenza. Io sono un uomo molto fortunato. Vedete, io e uomo molto fortunato sono collegati dal verbo essere, ma qui stiamo parlando del predicato nominale. Vedete, la parte nominale ha bisogno del verbo essere in funzione di copula. Per vedere, invece, il predicativo, vedete, i verbi copulativi sono in viola. Quegli uomini mi sono sembrati sospetti. Sembrare è un verbo copulativo, sospetti e quegli uomini sono collegati dal verbo sembrare. Quindi, come vedete, se fate un pochino di attenzione e analizzate, tra virgolette, con la dovuta correttezza e precisione, non potete confondervi. Sono cose completamente diverse. Guardate, soprattutto, la posizione dove trovate attributi a posizioni. Guardate anche il contesto in cui trovate il predicato nominale oppure i complementi predicativi. E, per questa seconda parte del video ci fermiamo qui. Faremo insieme la terza e ultima parte con la rassegna dei principali complementi che abbiamo realizzato insieme. Grazie. Grazie.